Ed ora diamo il benvenuto alla nostra ospite in studio che è il consigliere comunale del Movimento A5 Stelle, Lucia Lanfredi. Buonasera e benvenuta. Grazie dell'ospitalità. Ecco, l'argomento stoccaggio trattamenti dei fanghi industriali è in primo piano in questi giorni a Cremona e l'associazione Andiamo Oltre ha organizzato per sabato un convegno a cui sono stati invitati due esponenti, di uno regionale, uno nazionale del Movimento A5 Stelle. Sì, oltre a questi nostri esponenti che sono Danilo Toninelli, l'onorevole Danilo Toninelli e la consigliera regionale Yolanda Lani, che molto si sono spesi anche sulla questione dello spandimento dei fanghi industriali, sia a livello regionale che a livello nazionale, sarà ospite anche il professor Roberto Cenci che è un ex funzionario e ricercatore di Ispra. Questo argomento ci interessa non solo e non solo questo argomento, ci interessa soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente, perché quello che è lo spandimento nel trattamento dei fanghi nel nostro territorio cremonese ha una storia che viene da circa 20 anni, 20 anni nei quali comunque c'è sempre stata molta conflittualità tra favorevoli e contrari, perché ci sono molte incognite per quanto riguarda la salute, in quanto i terreni fertili cremonesi sono soggetti ad essere interessati a questo tipo di prodotto che è tratto spesso da una provenienza civile agroindustriale o industriale, la maggioranza è di provenienza civile, perché sono aumentati anche i depuratori comunali e consortili, però bisogna vedere che tipo di fanghi vengono sversati nei nostri terreni, perché a seconda della quantità di metalli la sostanza secca può avere più o meno rame, cromo, zinco, piombo, nickel, che certamente non fanno bene alla nostra salute, perché quello che viene sversato nei terreni poi finisce nella catena alimentare. E quindi è opportuno, proprio considerando che in questo momento il nostro export sia agroalimentare che caseario, e soprattutto il Granapadano, oltre al Parmigiano-Reggiano, trovano particolare fortuna, sia nei mercati europei che in quelli asiatici e nordamericani, è il momento proprio di salvaguardare al massimo questa nostra grande risorsa che è il terreno, proprio perché è da lì che può partire la qualità che ci contraddistingue a livello mondiale. E quindi penso che sia opportuno, come ha fatto recentemente la provincia di Cremona, diciamo che è stanziato dei fondi perché ARPA vada a controllare, facciamo almeno una dettina di controlli dei corpi idrici, mediante una verifica delle composizioni chimico-fisiche e dei fanghi che vengono distribuiti nel territorio cremonese. Ecco, un argomento molto importante per tutti i cittadini, quindi le chiedo di dare questa informazione, cioè di dove si trarà questo convegno e gli orari. Allora, anche noi abbiamo avuto l'invito dall'associazione, andiamo oltre che è un'associazione ambientalista, abbiamo colto questo invito e pubblicizziamo questo evento che si svolgerà a Palazzo Cattaneo sabato 14 gennaio alle ore 10 del mattino e appunto saranno presenti questi esperti. Ecco, noi siamo stati appunto invitati perché l'associazione andiamo oltre è un'associazione ambientalista che noi sosteniamo perché, diciamo, persegue finalità a noi molto vicine e pertanto quindi siamo d'accordo nel sostenerla. Grazie a Lucia Lanfredi. Grazie a voi.